Vivere un giorno tra le aziende agricole e i loro prodotti, sedere a tavola con gli agri-chef, salire in sella, gli asini e stare tra gli animali, nella fattoria didattica, nell'agriasilo, dove i bambini possono imparare a impastare il pane o fare l'orto. Un fine settimana divertente e istruttivo per gli studenti della classe terza dell'Agrario del Cicerone, che sono stati in visita al villaggio contadino realizzato dalla Coldiretti a Cosenza, per toccare con mano la centralità e i primati dell'agricoltura italiana. L'appuntamento era dal 10 al 12 marzo nel cuore di Cosenza, in piazza dei Bruzi e lungo corso Mazzini, con migliaia di agricoltori da diverse regioni, assieme al presidente di Coldiretti Ettore Prandini. L'obiettivo dell'evento, raccontano dal Cicerone, era far conoscere la biodiversità e la sostenibilità dell'agricoltura italiana, il modello basato sulla distintività e la qualità del made in Italy agroalimentare, lo spirito imprenditoriale dei giovani agricoltori e le frontiere dell'innovazione, parlare della crisi energetica, del cambiamento climatico, dell'alimentazione e dei rischi connessi all'affermarsi di modelli di consumo omologanti, a partire dall'arrivo sulle tavole del cibo sintetico a minacciare la salute dei cittadini e la sopravvivenza stessa del made in Italy agroalimentare. È stata una bella esperienza per i ragazzi dell'agrario che ora tornano in classe ricchi di stimoli e informazioni da approfondire.